A conclusione delle attività di laboratorio di scrittura scenica di drammaturgia del progetto Codex Teatri Rossanensis si è svolto presso la sala teatro della casa di reclusione a Rossano, casa di reclusione diretta dalla dottoressa Maria Luisa Mendicino, lo spettacolo teatrale Oltre Ninivie, sotto la direzione del registra Adolfo Adamo, da diversi anni impegnati in progetti che hanno come protagonisti proprio chi è ristretto nelle carceri di Rossano. Oggi la casa di reclusione di Corigliano Rossano è un appuntamento importante perché si uniscono ancora, si abbassa, si alza l'interesse e l'attenzione verso il carcere e al tempo stesso si eliminano proprio i pregiudizi, la presenza dell'assessore alla cultura fortemente voluta dal sottoscritto che partecipasse ovviamente non soltanto allo spettacolo ma tutto il corso, tutto il laboratorio è stata fondamentale proprio in quanto ovviamente sia professionista sia donna professionista e in questo caso anche assessore alla cultura. Teatro è l'arte più vicina alla vita, chi fa teatro è anche un portatore sano di azione, di movimento, di compagnia ma anche un portatore sano di cultura. Lo spettacolo è stato finanziato dal comune di Corigliano Rossano per l'occasione rappresenta anche l'assessore alla cultura Alessia Alboresi. Questo è un progetto che si è protratto un po' più a lungo rispetto ai tempi per causa Covid ma che abbiamo lanciato subito all'inizio della nostra amministrazione perché comunque l'istituto penitenziario è un polmone vivo all'interno della nostra città ed è giusto che ci siano delle interazioni e che vengano appunto attivate dei rapporti. Di questo ci sembrava essere una delle prime iniziative, il teatro in carcere che potesse appunto dare un segnale rispetto alla nostra attenzione e la collaborazione con l'istituto penitenziario. L'atto unico, vera e propria drammaturgia originale del regista ispirato al saggio Intervista verso Ninivie di Paolo Ziccone con il Cardinal Matteo Maria Zuppi descrive un viaggio spirituale intrapreso da un'umanità ritrovata che avverte l'impellente bisogno di ritrovare se stessa. Dubbi, incertezze, difficoltà costellano il tragitto ma l'urgenza di incontrare la speranza è più forte di ogni difficoltà. È motivo di vita ed è così che giunti a Ninivie e abbattuto il muro il cammino prosegue oltre Ninivie per continuare ad emozionarsi, riflettere e vivere. Un'acclusione unica per i ristretti del circuito alta sicurezza del carcere Rossano che hanno così potuto vivere nelle vesti di attori nonché di tecnici e scenografi questa esperienza teatrale. Ancora una volta ci si ritrova quindi a condividere momenti di alto spessore culturale e di importante valenza trattamentale che possono costituire spunti di riflessione e di spinta al cambiamento e all'evoluzione personale di fronte ad un palcoscenico che anche indirettamente ci rende tutti i protagonisti del cammino, come ha ricordato il direttore del carcere, dottoressa Maria Luisa Mendicino. Una giornata molto emozionante perché come diceva abbiamo scritto una storia molto importante del carcere di Rossano, un carcere che ha cercato sempre di mantenere un livello adeguato a quelli che sono i tempi, un carcere in cui il binomio sicurezza e trattamento non è soltanto un'utopia ma è la realtà quotidiana perché ci crediamo noi operatori, ci credono gli stessi ospiti della casa, ci crede il mondo del volontariato, gli appartenenti alla comunità esterna che partecipano insieme a noi a scrivere questa pagina importante.